buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di youtube oggi con questo video vi voglio parlare di un fenomeno che ha diciamo tra virgolette fatto un po' incavolare la comunità di pokemon go almeno una buona parte di essa la problematica in questione riguarda i pokemon stop che come voi saprete sono molto utili per rifornire il nostro personaggio di pokeball rivitalizzanti ed altri oggetti che ci possono servire durante la nostra avventura questi pokemon stop però non sono posizionati in maniera omogenea lungo diciamo tutta la nostra mappa che abbiamo a disposizione perché possiamo trovare diverse zone che hanno tantissimi pokemon stop vicini ed altre che addirittura per metri e metri non hanno nessunissimo pokemon stop quindi ragazzi che cosa è successo molta gente nella comunità di pokemon go si è aumentata che vorrebbe l'implementazione di alcuni pokemon stop nuovi bene la nintendo ha offerto una pagina un link dove noi possiamo andare e proporre la creazione di nuovi pokemon stop ovviamente tramite il nostro aiuto quindi che cosa dovremmo fare dovremmo andare nel punto dove noi vogliamo mettere questo pokemon stop fare una foto il paesaggio che ne so può essere una statua può essere un graffito può essere diciamo qualcosa di interessante ovviamente questa richiesta può essere fatta sia per i pokemon stop che per le palestre che ne so vicino a casa vostra invece c'è una statua in particolare ma non c'è un pokemon stop allora potete andare lì fare una foto e inviarla alla nintendo per farla implementare ma come si fa per farlo dovrete visitare la pagina ufficiale del supporto della nintendo e dovrete compilare l'apposito form che sarebbe un moduletto però al momento diciamo non sono stati resi noti i criteri in base al quali verranno esaminate le vostre richieste e in base al quale verranno pubblicati questi pokemon stop quindi diciamo che non si sa ancora bene se queste richieste verranno effettivamente ascoltate o respinte io qua sotto questo video vi metto il link dove potrete appunto andare a richiedere questo form questo modulo per mandare la richiesta spero che con questo vi sia stata d'aiuto insomma in qualche modo se avete qualche commento da lasciare potete pure commentare sotto questo video e se vi sono stato d'aiuto come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like a questo video alla prossima